Il Consiglio per l'Economia serve per mettere la Chiesa in grado di rispondere alla sua missione. Offrirà un contributo fondamentale. Fa parte di quei cambiamenti che intendono mettere in atto la necessaria riforma della cura romana per meglio servire la Chiesa e la missione di Pietro. Lo ha detto Papa Francesco, salutando i lavori del Consiglio per l'Economia alla sua prima riunione. Il percorso, ha detto il Papa, non sarà semplice e richiede coraggio e determinazione. Una nuova mentalità di servizio evangelico dovrebbe stabilirsi nelle varie amministrazioni della Santa Sede. Il Papa ha sottolineato che la composizione del Consiglio rappresenta l'universalità della Chiesa ed i laici ne fanno parte a pieno titolo.